Oggi vorrei proporti una ricetta diversa dal solito per cucinare le melanzane, il gâteau con prosciutto e mozzarella. Una preparazione simile a quella che si fa solitamente con le patate. Ti servirà un chilo di melanzane ovali. Buccherellale qua e là con una forchetta, facendola affondare nella polpa. Se hai il microonde, cuocile a 800 W per 20 minuti e lasciate riposare al suo interno per altri 5 minuti. Altrimenti nel forno ventilato a 200 gradi per 45 minuti, girandole a metà cottura. Quando sono morbide, elimina il picciolo e la buccia. Taglia la polpa a pezzi. Mettila in un colino e schiacciala bene con il dorso di un cucchiaio. In questo modo elimini l'acqua in eccesso. Fai la stessa cosa con le altre melanzane. Metti la polpa, così ottenuta, in un mixer o un frullatore. Aggiungi il basilico, la menta e l'origano. Poi un bel pizzico di sale e un po' di pepe. Se ti piace, puoi aggiungere anche uno spicchio di aglio schiacciato. Trita bene il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Versa la purea in una ciotola. Unisci un uovo e mescola bene per amalgamarlo. Poi aggiungi il parmigiano e il pangrattato. Mescola con cura fino a ottenere un composto abbastanza consistente. Se fosse troppo molle, puoi sempre aggiungere un pochino di pangrattato in più. Taglia la mozzarella a cubetti e uniscila all'impasto. Aggiungi anche i cubetti di prosciutto cotto e distribuisceli su tutto il composto. Rivesti una tortiera di 20 cm di diametro con la carta forno. Versa il composto e livellalo bene con il dorso di un cucchiaio. Completa con un po' di pangrattato. e con un filo di olio extravergine di oliva. Inforna il gâteau a 180 gradi per 45 minuti. Quando è dorato, sfornalo e lascialo intiepidire. Il gâteau di melanzane è un piatto appetitoso che puoi servire come antipasto o come secondo. Al posto del prosciutto cotto potresti usare dello speck. E la mozzarella la puoi sostituire con della scamorza affumicata. Trovi questa e altre ricette sul mio blog Il Chicco di Mais.